Oh, ma hai sentito le specifiche di PS5? Sì Hanno detto che ci sarà l'8K Due terabatti di SSD personalizzato da Sony I tempi chiaramente annullati 24 giga di RAM Non puoi capirlo Conta ci sarà un processore ed ultra core della madonna Una GPU AMD di next gen Che non so manco che cazzo significa Però è fichissimo Ray tracing, audio 3D, i led colorati Zitto Cosa? Ho detto zitto Ma ti rendi conto che i led sulla console Stanno i conti più vicino a un PC da gaming? I 60 FPS fissi Zitto Basta con sta storia delle specifiche Basta Non serve sapere e confrontare tutte queste specifiche tecniche State totalmente sbagliando strada Io dico no? Stiamo a parlare dei videogiochi Ma andò stanni i giochi Grazie Vabbè ma i giochi ci ritiranno fin là Ipocrity Ipocrity Volete sempre sapere tutto dei giochi prima che escono Altrimenti ne comprate ma non ve ne frega niente De spendere 400 euro dei console Senza sapere che giochi ci saranno Ammesso che ci siano Dimmo se la verità Il vostro è tech porn Ma non volete capire che sta storia delle prestazioni è pura follia? Contano i giochi I giochi Ma... Zitto Te devi sta zitto Ma che ce frega a noi De quanti byte riescano a processare ste console Se poi i giochi sono comunque mediocri Per una marea dei fattori Che ce frega Eh vabbè ma io gli voglio 60 fps fissi Tanto test anni manco lo fanno uscire per la 5 Quindi sarà tutto una merda Ancora Ma che me stai a pia per culo Sulla PS2 ci stavano i giochi a 60 fps Non erano solo picchia duro O giochi di corse Quindi L'abilità dello sviluppatore sta in questo Nel superare i limiti della macchina Poi Kojima Quello ha fatto un gioco per PS1 Che non poteva esiste Con quelle meccaniche lì Eppure ha fatto il capolavoro Dunque Ma di che stiamo a parlare Che la cosa più iconica Desta generazione È la default dance Eh vabbè ma io devo pure capire Le specifiche Se la console è il migliore De quella precedente Ma è scolpito nella pietra Che la generazione successiva È più potente Di quella precedente Che bisogno c'è Devo le conoscere in modo così Per verso un hardware L'importante So i giochi O volemo fa la fine Della scorsa generazione In cui non c'è stavano i giochi E se parlava De cose assolutamente utili Come questa Sì vabbè però ancora Non sappiamo quantità C'è strano sulla console Ma che Oh Eh Sofiteir No È una skin con la punta arancione So 20 euro mortacci tua I giochi Do stanno Videogiochi Lo dice anche la parola stessa Ma che è spento Vabbè Oh dai Usciranno Spero sempre il minimo 4k A 60 prima al secondo Però usciranno Va bene Va bene Va bene Non felicizzo più sulle specifiche 13 teraporti potenza Oh basta Hai rotto i coglioni Basta con sta storia Devo pensare ai giochi Ai giochi Oh Voglio giocare porca miseria Voglio giocare Voglio giocare